Buongiorno, in questa breve presentazione ci occuperemo di fare alcune valutazioni su quelli che sono gli effetti che gli indicatori bibliometrici delle riviste possono avere sulle comunità scientifiche. In altre parole, gli indicatori bibliometrici negli ultimi anni sono diventati uno strumento essenziale, in alcuni casi anche indispensabile per valutare la qualità, lo metterei fra virgolette, della ricerca scientifica e degli istituzioni, delle riviste attraverso la quale essa viene veicolata, però al tempo stesso possono essere un elemento eccessivamente pervasivo nella valutazione e quindi avere un effetto negativo sulle politiche nelle ambiti disciplinari della ricerca in generale. Questa riflessione nasce da alcune considerazioni che si possono ritrovare nel saggio di Benze e Sebastianelli del 2023, dove si titola di governare senza governare, dove viene evidenziato appunto il rischio che ci può essere nell'abeticare completamente a favore di strumenti basati su sistemi automatici di raccolta, dati e di generazione di indicatori, lasciando l'aspetto soggettivo, quindi quello politico nel senso più stretto del termine, piuttosto che a dei esperti, a strumenti semi automatici. Queste considerazioni trovano riscontro, quindi stiamo parlando del 2023, anche in un documento che è stato poi pubblicato come manifesto di Leiden a firma di autorevoli ricercatori, dove si pone l'accento su quello che è l'uso consapevole della bibliometria nell'ambito scientifico. Quindi la premessa che questi eminenti ricercatori fanno è proprio quella di porre un'attenzione sul fatto che una valutazione che deve essere fatta tra pari, con l'utilizzo di metriche, di sistemi bibliometrici, si può perdere nella valutazione la capacità di cogliere aspetti innovativi, oppure di cogliere delle tendenze di sviluppo nell'ambito della scienza. Per cui i colleghi hanno sentito l'esigenza di elencare alcune semplici regole, sono dieci, di cui parleremo un attimo più avanti, focalizzandosi su quelle che più sono di rilievo nell'ambito della presentazione che stiamo facendo. Per cui l'obiettivo che ci siamo posti è assolutamente quello di non avere una connotazione scientifica, perché nell'ambito della bibliometria oramai esiste un filone di ricerca scientifico vero e proprio che si occupa di questo, questa presentazione vuole essere uno stimolo a ulteriori considerazioni e quindi porre al centro dell'attenzione alcuni elementi condividendo quelle che sono le fasi del processo di valutazione e anche capire chi sono gli attori e in che modo questi dati si vengono a determinare. Quindi soprattutto poi alla fine l'obiettivo è quello di stimolare un ragionamento su in che modo la valutazione bibliometrica poi può indirizzare la ricerca scientifica in un certo ambito disciplinare. Faremo delle considerazioni che riguardano l'ambito disciplinare della statistica per ragioni che sono ovvie dato il contesto, che però possono chiaramente essere generalizzate a qualunque ambito scientifico più o meno riportate nello stesso modo. Come siamo arrivati nel tempo a questa enorme diffusione degli indici bibliometrici? Naturalmente, come è ovvio, questa diffusione è andata di pari passo con lo sviluppo tecnologico, in particolare con la diffusione della rete internet. Quindi prima del 2000 esisteva una valutazione dell'impatto della ricerca scientifica, ma erano strumenti destinati a esperti per analisi specifiche, quindi non esisteva una divulgazione vera e propria. L'ISI, l'ISI, l'Institute of Scientific Information, redigeva, si preoccupava di tenere aggiornato questo indice chiamato Science Citation Index, proposto da Garfield nel 64 e veniva diffuso e distribuito attraverso ovviamente prima la pubblicazione cartacee e poi attraverso un CD-ROM. Fino ad arrivare poi al 2002, quando la Thomson Reuters, riprendendo lo Science Citation Index, ne fa una piattaforma che viene battezzata Web of Science, in cui questo indice viene calcolato e aggiornato in tempi relativamente rapidi per un ambito abbastanza ampio delle riviste scientifiche, un ambito che poi nel tempo si è sempre più allargato fino ad arrivare ad una copertura che è quasi totale. Nel 2004 l'Elsevier, che è uno dei publisher più grandi al mondo nell'ambito delle riviste scientifiche, mette a disposizione un catalogo che prende il nome di Scopus, attraverso il quale calcola un indice citazionale che è alternativo al Scientific Citation Index. Nel tempo la Scopus, poi la Sevier, ha modificato questo indice per cui noi ci occuperemo solamente più avanti della versione che attualmente viene pubblicata. Nel 2004 Google lancia Google Scholar, nel 2005 Irsh propone l'H Index, nel 2007 Google si arricchisce con un applicativo che prende il nome di Publish or Perish, che molti probabilmente conoscono, e man mano che andiamo avanti e ci avviciniamo ai giorni nostri, altri attori entrano nell'ambito della valutazione bibliometrica nell'editoria scientifica. Quindi possiamo dire, ragionevolmente, che oggi siamo più o meno a 20 anni dall'introduzione e dalla diffusione di questi strumenti. Nonostante ciò, e quindi può essere il momento, e lo è, perché la discussione è estremamente vivace su questi temi, tant'è vero che oggi abbiamo un vero e proprio ambito di ricerca, bibliometria e scintometria, che si occupa appunto di studiare gli effetti e le modalità con cui la ricerca scientifica può essere valutata e quali sono gli effetti che essa può avere. Quindi il problema che noi vogliamo affrontare sostanzialmente, che da molto è stato sollevato, è proprio quello di capire se questa diffusione così ampia e così permeante di indicatori può avere o ha nell'indirizzare la ricerca scientifica. Ragionevolmente la risposta che possiamo iniziare a immaginare è sì, perché se c'è una diffusione, una preoccupazione, quindi la stessa pubblicazione del manifesto di Leiden, è ovvio che ci sono elementi tangibili, oggettivi, per potersi domandare, soprattutto per capire come contenere e utilizzare meglio la bibliometria. Il manifesto di Leiden quindi fa un'analisi molto accurata di quello che è lo scenario e poi riporta dieci raccomandazioni che dovrebbero essere tenute sempre presenti quando si utilizzano gli indici bibliometrici nei processi di valutazione. Il primo è quella più ovvia, più di buon senso, che dice che qualunque valutazione quantitativa deve essere un supporto all'assessment, alla valutazione fatta da parte di esperti. In giallo è evidenziato quelle che sono più rilevanti nel contesto in cui si colloca questa presentazione e le altre comunque hanno un indirizzo comune, sono tutte indirizzate sempre a un contenimento di quelli che possono essere effetti di un uso indiscriminato. L'altro aspetto che ci interessa è che nel punto 6 queste pubblicazioni devono essere valutate nell'ambito del contesto in cui sono avvenute, perché come vedremo gli ambiti disciplinari sono diversi, hanno regole diverse e quindi gli effetti delle processi citazionali chiaramente producono valutazioni che sono fra loro diverse. Evitare il più possibile di imporre delle statement, delle affermazioni che siano falsamente precise, se vogliamo tradurre più o meno alla lettera quello che loro hanno detto, perché appunto tutto il processo per quanto regolato da regole ben precise è suscettibile chiaramente di oscillazioni e variazioni che ne possono pregiudicare poi l'assoluta attendibilità e quindi è utile sempre fare una valutazione a complemento di quello che è il dato grezzo, diciamo l'aridità del dato, a riconoscere ancora al punto 9 gli effetti, questo diciamo è lo stimolo che questa presentazione vuole dare di quello che può essere l'assessment attraverso indicatori nei vari ambiti scientifici. Come siamo arrivati, quali sono le fonti dei dati? Sono sostanzialmente due quelle a cui facciamo riferimento, come dicevamo il primo è il web of science che oggi è gestito da una società che si chiama ClaryVate e mette a disposizione molti dati, ma quelli che noi interessano sono due indici, il primo è il Journal Impact Factor GIF che è un indice che non è normalizzato, quindi è un indice che viene valutato tenendo conto della rivista, quindi mette in rapporto le citazioni che ciascuna rivista ha ricevuto nei due anni precedenti diviso il numero dei documenti pubblicati, quindi in teoria riviste che sono di ambiti diversi si possono confrontare attraverso questo indice, mentre il Journal Citation Indicator è un indice normalizzato per l'ambito, per la categoria di riferimento e quindi si giustifica perché ci consente diciamo di fare delle valutazioni anche tra riviste che sono di categorie diverse, perché l'effetto della normalizzazione dovrebbe essere proprio quello di poterci far confrontare riviste che sono di categorie diverse. Qui sotto una breve storia, diciamo i passaggi salienti dello sviluppo di VOS che lascio a chi è più interessato anche a questi aspetti. Lo stesso ragionamento si può fare per l'archivio Shimago che è gestito dall'Elsevier che si basa sul catalogo Scopus e come dicevamo negli anni l'Elsevier ha modificato più volte il proprio indicatore fino ad arrivare a quello che oggi ha chiamato Shimago Journal Rank SGR e che è il numero di citazioni pesate per il prestigio della rivista che cita ricevute in un anno dalle pubblicazioni degli ultimi tre anni, quindi in qualche modo ha una sua correlazione col GCI, a differenza però sostanziale che le citazioni che una rivista riceve sono valutate, sono pesate in funzione di chi cita, quindi più è prestigiosa la rivista che cita e più è il peso di quella citazione. Shimago propone anche l'H index che appunto è un indice proposto nel 2015 e aveva come obiettivo quello della valutazione del ricercatore non della rivista ma può essere generalizzata anche per rivista, quindi è una rivista che ha un indice H, significa di un certo valore, significa che ha almeno H articoli che hanno ricevuto H citazioni, il che vuol dire che questo è un indice che è cumulativo, quindi è destinato comunque non può mai decrescere nel tempo e nel catalogo Scopus considera le citazioni, le pubblicazioni a partire dal 1970, quindi come vedremo è un indice che non può essere per niente comparato con gli altri normalizzati che abbiamo visto prima, ne vedremo un esempio, quindi va usato con grande cautela per ragioni che sono poi abbastanza evidenti. Anche qui alcuni passi fondamentali dello sviluppo di Scopus per coloro che fossero interessati. Come dicevamo tutto è suddiviso, le riviste come anche i ricercatori sono divisi e sono associati a categorie disciplinari che vengono in nome di subject category. Le subject category appartengono ad aree che sono cinque sia per Scopus sia per Clarivate, ma non sono le stesse. Ciascuna subject category può a sua volta contenere delle sottocategorie, quindi abbiamo subject subcategory, le riviste, quindi quando vengono valutate nell'ambito, nel proprio ambito o sotto ambito, sono valutate rispetto alla propria categoria disciplinare. Poiché le categorie sono diverse nella maggior parte dei casi tra i due provider di indicatori bibliometrici, è chiaro che non è possibile fare una comparazione diretta tra gli indici dell'uno e gli indici proposti dell'altro, se non per alcuni campi ben precisi, come poi vedremo fra un attimo. Le riviste, per esempio, nell'area statistica possono appartenere a più di una categoria ma anche a più sottocategorie. Per ciascuna sottocategoria di riferimento viene calcolato l'indice bibliometrico e sulla base degli indici bibliometrici poi vengono trasformati in ranghi per ogni sottocategoria e in base alla posizione che la rivista occupa nella serie ordinata gli viene attribuito il quartile di riferimento. Quindi le riviste sono divise in quartili, il primo quartile rappresenta il 25% delle riviste che hanno indici citazionali più alti e così via il secondo, il terzo e il quarto quartile. Questo lo fa sia Web of Science, questa dimensione in quartili, sia Scopus. Chiaramente ciascuno lo fa sui propri indici. Ed ecco appunto vediamo come sono organizzate. Le cinque aree Web of Science sono quelle che possiamo vedere nel pannello di sinistra e quindi sono organizzate in Life Science e Biomedicine, Physical Science, Social Science, Art and Humanities and Technology. Mentre quelle di Scopus sono leggermente diverse. È possibile stabilire una corrispondenza bionivoca solamente tra quelle che rientrano nella categoria Physical Sciences. Le altre sono state riorganizzate in mani diverse anche per ragioni storiche. Nel complesso quindi tutti e due hanno cinque aree di riferimento, però Scopus ha 27 categorie che poi vengono associate a queste cinque aree e all'interno delle 27 categorie si possono individuare 334 sottocategorie. Web of Science ha 21 categorie disciplinari, all'interno della quale vi sono 254 sottocategorie. Quindi questo dovrebbe dare un'indicazione su quella che è la eterogeneità tra i due sistemi di classificazione delle riviste degli ambiti disciplinari. Quelle che sono per noi rilevanti come statistica, se le guardiamo dal lato Web of Science, vediamo che sono tutte categorie che appartengono a Mathematics, se guardiamo per statistica, e a cui si possono associare anche altre sottocategorie. Quindi per la statistica nella valutazione Web of Science rientra al cento per cento nelle categorie Mathematics, ma può avere riviste che sono collocate anche, oltre che Mathematics, anche in un'altra categoria. Questo è un aspetto molto importante di cui poi parleremo più avanti. Se le guardiamo invece per esempio nel caso della demografia, qui è molto più semplice perché la demografia appartiene solamente a questa categoria Social Science e eventualmente include anche quello che dentro Social Science è multidisciplinare. Quindi sono situazioni molto diverse nel fare delle valutazioni perché abbiamo da una parte una grande interagionità, invece come è più ragionevole immaginare, dall'altra parte invece una chiara omogeneità. La stessa cosa la possiamo vedere per Scopus. Qui è più articolato perché mentre abbiamo visto Web of Science e Mathematics vale per tutte le classificazioni che interessano nella statistica, Scopus fa un discorso diverso perché tende diciamo a separare le applicazioni della statistica dalla statistica metodologica, quella più vicina alla statistica matematica, per cui abbiamo che due categorie cadono, due sottocategorie ricadono nella categoria Decision Science e sono Statistica Probability and Uncertainty e Decision Science miscellane, mentre altre due categorie rientrano invece nell'area Mathematics, mentre demografia come anche in questo caso qua si associa a una sola categoria e quindi gauda diciamo di una situazione di grande omogeneità. Questo ci consente proprio di fare il confronto tra quelle che sono le situazioni ben definite come demografie e quelle invece dove si vengono a creare delle situazioni che possono determinare delle relazioni tra una sottocategoria e un'altra che in alcuni casi possono poi determinare lo sviluppo di ricerche e di interessi più in una direzione piuttosto che in un'altra. Se noi andiamo a considerare il catalogo Scopus, quindi lo Shimago, possiamo prendere alcuni esempi di riviste, alcune molto note come per esempio Annals of Statistics, che è una rivista che ha un H index di 180 e nella valutazione dell'indice Shimago risulta sempre in primo quartile, cioè nel 25% delle riviste che hanno l'indice lo Shimago più alto di tutte quante. Questo si verifica sia nella categoria Statistic and Probability, nella categoria Mathematics e sotto categoria Statistic and Probability, sia nella categoria Decision Science e sotto categoria Statistic, Probability and Science and Time a cui questa rivista appartiene. Altro esempio è Scientific Data. La prima differenza che appare subito evidente è che questa rivista si è collocata in molti più ambiti disciplinari, essendo presente in molte categorie e in moltissime sottocategorie, quindi è di interesse o vuole e pretende di essere di interesse per le computer science, per decision science, per mathematics e per social science. Ed è evidente che sono riviste queste generalmente più nuove o che comunque si sono rinnovate, è pubblicata dalla Nature Publishing Group, quindi un grosso gruppo editoriale, ed ha un H index di 101. In tutte le sottocategorie in cui viene valutata e risulta sempre appartenente al primo quartile. Altro esempio, ancora diverso, Methods Data Analysis. Questa è una rivista che non è pubblicata da un editor commerciale, ma da un istituto di ricerca, il Leibniz Institute for Social Science, che ha sede a Mannheim in Germania. Ed è una rivista anche abbastanza trasversale, perché anche questa ha molte categorie, addirittura abbraccia anche la Applied Psychology, quindi per noi è di interesse per la statistica, perché contiene sia statistica in probabilità, sia statistica in probabilità, ma contenendo anche queste altre sottocategorie, chiaramente può essere di interesse anche per i ricercatori che sono al di fuori, quindi una collaborazione tra uno statistico e uno psicologo può trovare una collocazione in una rivista di questo tipo. L'H index è 6, apparentemente è molto basso, ma come vediamo questa rivista negli anni dal 21 al 22 ha passata in tutte le categorie in cui viene valutata dal terzo quartile, che è questo in arancione, al secondo quartile, che è questo in giallo, fino al 22, che è l'ultimo dato disponibile e presente nel primo quartile. Quindi se noi vogliamo fare un discorso sulle riviste che sono indicizzate e sono di interesse per statistica, noi abbiamo che nel catalogo Scopus abbiamo complessivamente 1.398 riviste, che devono essere inserite in almeno una delle cinque sottocategorie che sono di interesse per la statistica. Se andiamo a vedere le stesse riviste, cerchiamo di individuare le stesse categorie nel catalogo Web of Science, come abbiamo detto abbiamo solo due categorie di riferimento, che sono statistica e probability, e abbiamo solo due categorie di riferimento nel catalogo Scopus, che sono statistica e probabilità e statistica e probabilità in dandesentrata, e sono 871, quindi da 1.398 ne consideriamo solamente le 871 che ricadono in queste due categorie, perché sono le uniche due che possiamo in qualche modo associare al catalogo Scopus. Poiché il catalogo Web of Science è un catalogo più restrittivo e contiene un numero inferiore di riviste, di queste 871, quelle che sono presenti in tutti e due gli archivi sono 574, quindi i dati che vi mostrerò in avanti fanno riferimento a queste 574 riviste che sono riconducibili a statistica e sono nell'intersezione tra Web of Science e il catalogo Scopus. Quali domande ci dobbiamo porre? Quindi è ragionevole considerare che riviste che sono classificate e considerare insieme riviste che sono classificate in categorie e perfino in aree diverse? Qual è il grado di correlazione che ci sono tra gli indicatori che propone Web of Science e quelle che propone Scopus? Quindi il numero di problemi, i problemi sono sostanzialmente due, che il numero di riviste è diverso nelle due database e quindi anche gli indici di normalizzazione, i criteri di normalizzazione sono diversi e che Web of Science è più restrittivo, quindi ha una traccia mediamente nelle riviste che hanno un grado di prestigio mediamente più alto. Dico mediamente perché non è generalizzabile questo concetto, però in linea di principio possiamo affermare che lo sia. Quindi se noi andiamo a valutare le correlazioni facendo un indice di correlazione e le varianze degli indici che abbiamo considerato, vediamo che queste correlazioni sono tutte quante come ci dovevamo aspettare, come per fortuna si verifica, tutte molto alte. In particolare, poiché noi abbiamo una indicazione su come questi indici vengono calcolati, però non abbiamo gli elementi sulla base su cui questi indici vengono calcolati, io ho calcolato un indice molto semplice che è il rapporto tra le citazioni che sono state ricevute da una rivista negli ultimi tre anni, diviso il numero di articoli pubblicati, quindi per capire poi questi indicatori più sofisticati, proposti da Web of Science e da Scopus, in che modo si differenziano da una misura che sostanzialmente è molto banale e che si può calcolare con grande facilità. Quindi sulla diagonale principale di questa matrice abbiamo le varianze e sostanzialmente c'è un'omogeneità di queste varianze, quindi questo ci permette di confrontare. Sono tutte distribuzioni che soffrono di una certa simmetria, quindi questa andrebbe tenuta in debita considerazione, però le correlazioni come vediamo sono tutte quante altissime e questo indice di citazione degli ultimi tre anni è molto vicino, come ovviamente ci si poteva aspettare al JIF, al Journal in Path Factor, che sostanzialmente è la stessa cosa ma fa uno shift diciamo tra l'anno di pubblicazione dell'articolo e l'anno di citazione. È alto comunque e sono alti, il Journal Citation Index è alto, la correlazione è alta con tutti, quindi sostanzialmente in linea di principio una misura si differenzia molto dalle altre, soprattutto se consideriamo le riviste che occupano le più prestigiose, quelle che sono ovviamente di maggiore interesse. Questo è il grafico del riporta, le stesse informazioni che sono in tabella. Quindi quello che ci stiamo domandando è se una rivista si presenta con molte categorie, come abbiamo visto, che sono copresenti, la copresenza di categorie che si ripete in più riviste può essere uno stimolo a favorire processi di collaborazione e osmosi fra ambiti scientifici, quindi favorendo lo sviluppo della ricerca di quelle discipline nella direzione che può essere comune alle due e al tempo stesso gli ambiti di ricerca trasversali possono favorire lo sviluppare riviste nuove che tengono in conto nelle loro categorie delle intersezioni che al momento sono piuttosto rare e sono addirittura vuote, per cui quello che abbiamo fatto, sempre utilizzando i dati a disposizione che si possono ricavare dai cataloghi, approcci estremamente semplici, è quello di andare a studiare le concorrenze nel database attuale tra le categorie, tenendo in considerazione le 574 riviste che possono essere ricondotte a statistiche che sono presenti nei due database, quindi è un sottoinsieme piuttosto limitato rispetto a quella che è tutta l'editoria che può essere di rilevanza per statistiche. Quindi se noi consideriamo statistiche e probabilità, che è una sottocategoria di mathematics, è una sottocategoria presente sia in Scopus che in Web of Science, ed è l'unica su cui si può fare un ragionamento, vediamo appunto che statistiche e probabilità si va a combinare, quindi concorre insieme alla categoria, sotto categoria Modeling e Simulation, Economics e Iconometrics, abbiamo più di 20 riviste che hanno questa concorrenza, meno per computer science e come vediamo per esempio ci sono poche intersezioni con aspetti che riguardano medicina, education, finance e così via. Quindi due collaborazioni, comunque i campi di interesse che riguardano al tempo stesso statistiche e probabilità ed economia trovano facilmente delle collocazioni, perché ci sono molte riviste che sono interessate ad entrambi, mentre invece una collaborazione tra statistiche probabilità e probabilità e intelligenza artificiale paradossalmente trova pochissime riviste che hanno una loro intersezione non vuota. Se noi andiamo su Applied Mathematics, che è per noi una categoria di interesse, è una categoria molto generica, perché dentro Applied Mathematics ci sono tantissime riviste di natura diversa, andiamo a vedere che Applied Mathematics è per noi che abbiamo interesse invece nel Statistic Probability oppure Statistic Probability and Uncertainty è relativamente poco numerosa, perché Applied Mathematics si combina con Analysis, Modeling and Simulation, Computer Science, Computational Mathematics e così via. Quindi per trovare diciamo un'intersezione con quelle che sono le riviste che possono essere gli ambiti disciplinari, che possono essere interesse comune, bisogna andare al di sotto diciamo di queste, quindi è un'intersezione relativamente piccola. Se ne passiamo invece nell'ambito delle decision science, qui il numero delle riviste è già e di per sé minore e ancora una volta vediamo che Statistic Probability and Uncertainty si lega sostanzialmente a economics and econometrics. Quindi questo giustifica, ripeto, questo non riguarda il contesto nostro nazionale, queste sono valutazioni che chiaramente vengono fatte sulle riviste e hanno una valenza, una portata che può essere declinata in qualunque contesto di ricerca, perché le riviste scientifiche, nella logica di globalizzazione, sono accessibili nella lettura e nella scrittura da tutti i ricercatori di tutti i paesi del mondo. Quindi ancora una volta noi vediamo che Statistica si lega moltissimo con gli ambiti dell'econometria e molto meno con tutti quelli che sono i contesti dell'automazione, dell'intelligenza artificiale. Non compaiono per esempio riviste, se non con pochissime concorrenze, per esempio con la psicologia applicata, o anche con Big Data, non compaiono riviste di questo tipo. Questa stessa valutazione, non so se si riesce a leggere bene questo grafico, si può fare cercando di tenere tutti questi dati insieme, quindi evidenziando le categorie che ci interessano e le altre sottocategorie, le sottocategorie che ci interessano e tutte le altre sottocategorie. Quindi questa mappa fattoriale che vediamo nella parte sinistra della slide è stata ottenuta utilizzando l'analisi delle corrispondenze, che è un metodo in grado di trasporre una matrice di contingenza su un piano determinando una lettura di tipo geometrico, dove la prossimità tra punti, in questo caso i punti sono associati a un'etichetta, indica una concorrenza delle due modalità. Quindi che cosa notiamo? Che le sottocategorie che sono di interesse per la statistica si distribuiscono all'estremità più o meno di questa nube. All'interno ci sono quelle che sono più di interesse comune e man mano che andiamo all'esterno e nelle prossimità di una di queste categorie troviamo quelle che sono di interesse per una sola di queste categorie. La cosa interessante è vedere che appunto queste quattro categorie, pur essendo copresenti in qualche caso, fanno proprio un piccolo cluster, un gruppo a parte ed è appunto la farmacologia, l'health informatics, l'epidemiologia e la salute pubblica. Mentre invece, come avevamo anche già visto dagli istogrammi, vediamo che stasissime probabilità si lega molto all'economia e econometria, le multidisciplinare e la psicologia miscellanea. Mentre invece, statistiche e improbabilità in uncertainty si va a legare più ad ambiti di tipo sociale, quindi sociologia e political science, marketing, management. Statistiche e improbabilità in uncertainty è molto vicina alle discipline di accounting, di assessment e così via in ambito economico. Decision science miscellanea è una categoria, sottocategoria di pochissime riviste, quindi le considerazioni che si possono fare su queste lasciano un po' il tempo che trova e applied mathematics, come abbiamo visto, è estremamente generica e quindi va valutata con una certa cautela. Quindi, come dicevo in premessa, questa presentazione non ha alcuna pretesa di arrivare a una conclusione, ma semplicemente quella di evidenziare uno stato di fatto della situazione attuale, ponendo l'accento su alcune evidenze che possono essere utili e spero che lo siano a successive considerazioni e valutazioni e ricordando lo spirito da cui siamo partiti e quindi riprenderei proprio un passaggio dal saggio di governare senza governare, in cui dice, cito testualmente, l'ambivalenza, e questo vale sempre, non solo per l'utilizzo degli indicatori in bibliometria, l'ambivalenza del metodo statistico è percepibile a partire dalla sua forma embrionale, data dai suoi progetti di censimento, che hanno diciamo un censimento a valenza puramente amministrativa e sotto forma di registro, ma poi diventa direttamente efficace il censimento e la statistica però disegna allo stesso tempo lo sviluppo della conoscenza che permette di definire una politica. Chiaramente sta a noi poi indirizzare nei limiti di quello che si può fare, le politiche di sviluppo nel campo della ricerca nella direzione che sia più aderente a quella che è appunto la crescita, lo sviluppo scientifico, cercando sempre di favorire e mai di ostacolare quelli che sono le trasferimenti da un ambito disciplinare a un altro. Con questo io ho concluso e vi ringrazio diciamo per l'attenzione e spero di lasciarvi delle considerazioni che possano essere utili e sono disponibili a qualunque confronto attraverso il mio indirizzo di posta elettronica istituzionale che è appunto francesco.palumbo.it. Grazie ancora per l'attenzione.